La testa è Bob Buster, è il Bancomat, c'è pure il Bancomat, il ragazzino, una carta d'identità, i documenti del motorino, è rubato, no? A Valubens sto a parlare con te, è tuo il motorino? Sì, è mio, potete controllare. Oh, sta zitto, zitto, sta buono. Tu, che fai? Fermo. Sta buono, che fai? Mi dai gli ordini, mica stai a casa, stronzo. Ma che credi, di stare a casa con papà? Eh no. Che c'è, non parli più? Basta, basta, chi? Piano, che così gli fai male. Ma che gli faccio male? Questi non morano mai, ci hanno la copertura contro la merda. Dici qualcosa? Attanzi, basta che così lo soffo, che basta? Gli odio. Gli odio, sti ricchi del cazzo! Quei soldi pensano che risolve tutto, muo' arriva papà, ci porta l'avvocato, eh? E io sto in mezzo alla strada per quelli come te! E dai, fammi vedere se c'hai coglioni. Eh? Dai! Fermo! Mena! Mena, stronzo! E Mena, cazzo, dai! Non te la fai vita, non tu cazzo, eh? Basta, vattene un po'. Va via! Va! Ma vaffanculo, cura te ha! Che ha fatto? E che ha fatto? Ben, ben in lattanza l'hanno trovato con tre grammi di cocaina in tasca. E rilasciatelo. Perché? Perché sì. Non ho capito. Non lo faccio capire, è un informatore mio. E che dice l'informatore? Ce l'avrebbe detto, no? Che sei un informatore, tu? Ha sentito che ha detto? È un informatore mio. Va, aiutateli i documenti, va. Oh, bene, hai sentito che ho detto? Va, vattene. Si cambia musica qua dentro, eh?